E abbiamo a streetnews.it Maria Masiello, rappresentante della Mauriello Petroli, che faremo con Manganella. E' il destino che deve essere lo sponsor ufficiale tra gli sponsor di questo nuovo video, che si chiama Pistillo, dei soliti tappi, con Antonio Manganella e Luca Sepe. Vogliamo parlare un po' dell'azienda, quando nasce e soprattutto cosa offre? Allora, questa azienda è nata nel 1985 dalla famiglia Mauriello, inizialmente dal nonno, poi è stato mandato dal padre, al figlio e via dicendo. Allora, questa azienda si occupa soprattutto di prodotti petroliferi, abbiamo vari... Se ci fanno bene il benzino, lo possiamo fare? Certo, come? Ah ok, allora parliamo poco. Allora, soprattutto ci occupiamo di gas propano. Diciamo che abbiamo vari punti vendita in varie zone, Piedimonte Matese, Ailano, Pietra Melara e San Pietro, infine, che è stato aperto da poco. Bene. E Sparanise anche. Grazie. Bello, quindi insomma ragazzi, Mauriello Petroli, vi raccomando, per qualsiasi esigenza siamo a vostra disposizione. E poi tra l'altro Mauriello ha creduto in noi ed è uno degli sponsor di soliti tappi, in questo caso la canzone Pistillo. E poi vogliamo anche dire che il metano ti dà una mano, perché inquina anche meno, voglio dire, oh no, la benzina. Noi utilizziamo soprattutto propano, gas propano. La differenza tra propano poi e metano? Metano sono due cose benissime separate, sì, 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 per questo. Va bene, grazie alla precisazione, da Antonio Manganiello è tutto, streetnews.it, uoio, salve buo buo. Grazie. Grazie. Grazie.